Erano attese da molti anni degli interventi nella parte di fiume Metauro compreso tra l'autostrada e la foce perché lì un po' di anni fa c'era stata una alluvione, una rotura degli argini, erano stati fatti all'epoca una serie di lavori che però nel tempo poi a poco poco si erano deteriorati soprattutto a causa di alcune esondazioni ulteriori ma soprattutto a caso anche di una serie di attività portate avanti da degli animali selvatici in utile in modo particolare che forando gli argini mettono a repentaglio a rischio l'alveo del fiume. Di conseguenza lo scorso febbraio ero venuto a Fano a presentare diciamo così uno stanziamento vocato a dei lavori di consolidamento di quella parte di fiume Metauro, avevo detto che entro l'anno avremmo approvato il progetto definitivo e portato avanti la gara d'appalto. Questo tempo è stato mantenuto, proprio l'altro giorno abbiamo aggiudicato i lavori ad una ditta di Treia, ditta Francucci, che ha fatto anche un ribasso d'asta consistente, di conseguenza i lavori sono stati già affidati e dentro il mese di febbraio si insederà il cantiere. Si provvederà alla ripulitura dell'alveo del fiume Metauro per tutto il corso appunto dell'autostrada fino alla foce, il consolidamento degli argini particolarmente nella parte sud dove sarà sistemata anche la rete appunto per evitare che le nutri ed altri animali possano forare gli argini e di conseguenza, diciamo così, mettiamo in sicurezza tutta la parte di Fano Sud e di Tombaccia che all'epoca aveva pagato a causa proprio di questa esondazione.